Sistema di drenaggio e cambiamenti climatici predisposto dalla Società Technical, lo studio che punta a prevenire gli allagamenti a Trapani, individuati i possibili interventi da mettere in campo. Questa è la nostra notizia del giorno, io vi do il benvenuto a questa nuova edizione dell'informazione sul Telesud, il servizio può partire. Uno studio di questo genere passa attraverso un'indagine di dettaglio dello stato di fatto, anche con endoscopie e videocamere che verranno infilate all'interno di tutta la rete di Trapani per capire le connessioni idrauliche che ci sono. Detto ciò, ovviamente un'idea ce la siamo comunque già fatta, sulla base di dati di letteratura. Dati storici, dati più recenti, vecchi progetti, in parte realizzati, in parte no. Allora, innanzitutto il tema dei cambiamenti climatici, non è l'unico responsabile, vorrei che i cambiamenti climatici non fossero un alibi. Cioè, Trapani ha una struttura di smaltimento delle acque meteoriche che è veramente non adeguata a una situazione anche normale, che ovviamente poi i cambiamenti climatici hanno reso più grave. Qual è questa struttura? È una struttura di una città che di fatto non ha più uno sbocco idraulico al mare. Oggi le acque meteoriche che scendono dalla collina di Erice e tutte quelle zenitali che piovono direttamente sulla città non hanno uno scarico se non attraverso dei sistemi elettromeccanici, che sono delle pompe, che come tutti i sistemi elettromeccanici sono fallaci, possono non funzionare, possono comunque non essere adeguati perché hanno una capacità limitata. Quindi il sistema, come si dice, non è ridondante, non è affidabile, è un sistema molto vulnerabile. E perché ciò non avvenga, occorre fare quello che per fortuna fa la natura e cioè consentire all'acqua di andare al proprio ricettore naturale che è il mare in condizioni non di sollevamento meccanico ma naturalmente. Questo lo si può fare, lo si deve fare, altrimenti Trapani viverà sempre con l'ansia di andare sotto acqua. Andando alle soluzioni, cosa si può fare? Che interventi si prospettano in questo studio che lei ha fatto. Una città che è stata costruita dove c'era l'acqua, l'acqua torna dove c'era l'acqua. Come ce ne usciamo? Domanda chiarissima. Ce ne usciamo innanzitutto separando laddove è possibile le acque meteoriche dalle acque di scarico urbano. Perché è evidente che le acque di scarico urbano non possono essere scaricate a mare, devono essere trattate in un impianto di depurazione che c'è e che funziona. Però siccome il sistema è dappertutto misto a Trapani, come per la verità quasi dappertutto in Italia, quello che occorre fare è dotare il sistema di sfioratori di piena, cioè di strutture in grado di togliere dalle tubazioni l'acqua in eccesso, l'acqua piovana, per scaricarla quella sì a mare, lasciando dentro le tubazioni solo le acque di fognatura nere o miste. La norma della regione siciliana consente di fare questo. Quando il grado di diluizione arriva a circa 5, tra 3 e 5, e quello che si farà a Trapani sarà necessariamente questo. È chiaro che non basta. Cioè questo consentirà di ridurre la portata che arriva a questi sollevamenti, i quali sollevamenti devono essere prevalentemente destinati alle acque di scarico nere, non alle acque meteoriche, ma occorrerà anche ripristinare la rete idrografica superficiale e in particolare lo scarico del canale Scalabrino. Questo lo si farà con un intervento che io penso che sia, come dire, che rientri in un'occasione impareggiabile per la città di Trapani, e cioè quella di recuperare la vecchia area umida della Salina Collegio, che per fortuna esiste ancora. Io ho detto al sindaco che voi dovete preservarla come se fosse una cosa essenziale per la città, perché è rimasto l'unico sbocco a mare naturale. Riaprire il canale Scalabrino, o quantomeno consentire alle acque di quell'asse di drenaggio di arrivare alla Salina Collegio, a questa nuova area umida che verrà creata, diciamo dove prima c'era una Salina Collegio, oggi non è più una Salina, è un'area umida. Con dei laghi, perché lì ci sono appunto dei punti di acqua. Esattamente, lì ci sono dei laghi, quei laghi vanno assolutamente conservati, preservati, e faranno esattamente la funzione che facevano prima le paludi, cioè quella di raccogliere l'acqua di pioggia, di consentire anche di far sedimentare i sedimenti senza scaricarli nel bacino portuale, dopodiché di avere un loro scarico che scarica a mare. Questa era la notizia del giorno, per noi adesso qualche minuto di pausa, ci vediamo tra poco. A fuoco due auto dei vigili urmani, è successo questa notte a Campobello di Mazzara, denunciato un giovane. I giochi sono fatti, a mezzogiorno sono scaduti termini per la presentazione delle liste, delle candidature, programma e simboli in vista delle elezioni amministrative del prossimo 28 e 29 maggio. Piazzetta del Tramonto si allarga, iniziati questa mattina ai lavori di demolizione del vecchio edificio tra Via Carolina e il porto peschereccio di Trapani. Appello per la chiesa di Sant'Antonio, presa di posizione del sindaco di Famigliana Forgione nel corso di una conferenza dedicata alla storica chiesa dell'isola. Appuntamento con la storia, la Handball Erice, questa sera alle 19.30, ovviamente questo è il titolo di sport, giocherà a gara 1 per i play-off Scudetto Arpie impegnata contro Brixham su Tirol. Mangia sano Italia, grazie. Conclusa la chermesse sull'eccellenza della gastronomia siciliana, il presidente Massimo Marino fa il punto sull'evento appena conclusosi ad Erice. Ne parleremo nell'approfondimento. Bentrovati, partiamo subito con la cronaca dopo aver sentito i titoli. A Campobello di Mazzara questa notte sono andate a fuoco due auto dei vigili urbani. È stato denunciato un giovane, vediamo. Un incendio doloso ha distrutto questa notte due autovetture della Polizia Municipale di Campobello di Mazzara, modello Fiat Tipo ed entrambe parcheggiate davanti al palazzo municipale della cittadina. Le due auto erano utilizzate, una come autovettura di rappresentanza e l'altra immatricolata per i servizi di Polizia Municipale. Il presunto autore del gesto sarebbe un giovane di Mazzara del Vallo che per motivi ancora in fase di accertamento ha piccato il fuoco. Mentre le due Fiat Tipo bruciavano, si è fermata sul posto un'autopattuglia di una società di vigilanza privata che ha individuato l'uomo ed ha immediatamente chiamato i carabinieri. L'indiziato, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero. Sono in fase di acquisizione, ha affermato il comandante della Polizia Municipale Giuliano Pagnerino anche le registrazioni delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, sia quelli di proprietà comunale che quelli di privati cittadini, al fine di poter ricostruire con certezza quanto accaduto. I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un commerciante di 60 anni con precedenti di polizia. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani è frutto di meticolose indagini svolte dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dalla moglie del sessantenne. Sono state infatti documentate dai militari dell'arma, reiterate, condotte di maltrattamenti, lesioni e minacce subite dalla donna nel corso del tempo che hanno portato la stessa appunto a denunciare tutto. Due componenti della cosiddetta banda del Bancomat sono stati assolti dal gruppo di Trapani. Vediamo. Il gruppo del Tribunale di Trapani ha assolto Pietro Maisano e Giuseppe Di Dio arrestati nell'ambito dell'operazione Jammer condotta dalla polizia che nel maggio del 2021 sdominò tre bande collegate fra loro specializzate nell'assaltare i Bancomat degli istituti di credito e degli uffici postali. Gli sportelli a Trapani, Marsala e nel Catanese venivano scardinati con l'utilizzo di escavatori rubati. Nel corso della prima udienza preliminare a Marsala la posizione di Maisano e di Dio venne stralciata. Il giudice infatti accolse la questione della competenza territoriale sollevata dalla difesa rappresentata dagli avvocati Salvatore Gallufo e Giuseppe De Luca. Il processo pertanto venne spostato a Trapani e celebrato con il rito abbreviato. Il PM aveva chiesto per i due imputati una condanna a tre anni e sei mesi ciascuno. Il gruppo però ha emesso sentenza di assoluzione. Diverso invece l'epilogo del processo per gli altri componenti delle bande dei Bancomat. Sono stati infatti condannati con rito abbreviato dal Gup di Marsala a pene complessive per 18 anni altri cinque imputati. La pena più severa, sei anni di carcere, è stata inflitta ad Andrea Tropea, 33 anni, 10 reale. A cinque anni e mezzo invece è stato condannato concetto Mannuccia di 37 di Catania. Due anni e mezzo per Antonino Viglianesi, 42 anni di Catania, un anno e otto mesi per Alessandro Valentino Longo, di 43, anche lui della città etnea, e due anni e quattro mesi per Fabrizio Stabile, 29 anni, di Marsala. Sempre a Marsala, dinanzi al Gup, Riccardo Alcamo avevano scelto di patteggiare la pena altri quattro imputati. Quattro anni di carcere a testa sono stati inflitti ai trapanesi Antonino Anselmo, di 58 anni, e Massimiliano Gaspare Salafia, di 44, mentre due anni e mezzo sono stati decisi per il 55enne marsalese Isidoro Salvatore Rallo, in passato arrestato anche in operazioni di mafia, e un anno e mezzo al trapanese Francesco Mancuso, di 32 anni. Nel corso della stessa udienza, per altri cinque era stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, per competenza territoriale. L'operazione Jammer è stata condotta dalla squadra mobile di Trapani, cinque gli assalti, eseguiti tutti con lo stesso modus operandi. La prima incursione risale al 10 luglio del 2019, quando a Marsala fu scardinato uno sportello di banca intesa. Poi, il 31 agosto, il colpo ai danni del credito valtellinese di Contrada Xitta, alle porte di Trapani. Sempre a Marsala, altri due colpi, alla banca Toniolo di Contrada Terrenove e alle poste di Contrada Paolini. Il quinto, datato 19 febbraio 2020, al credito siciliano di Tre Castagni. Il bottino complessivo è stato di 225 mila euro, di cui 74 mila recuperati nel corso delle indagini, dalle quali è emerso che il gruppo catenese avrebbe agito con procedure di approccio di tipo militare, mettendo a disposizione delle bande di Marsala e Trapani la propria expertise nell'esecuzione materiale dell'assalto agli sportelli Bancomat. Morte sospetta all'ospedale di Trapani, la procura ha aperto un'indagine. Vediamo. Sarà la procura di Trapani a far luce sulla morte di un giovane egiziano di 19 anni, deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dopo essere stato operato di appendicite. Si presume che si possa trattare di un caso di malasanità. Ecco perché Maurizio Sturiano, presidente del consorzio Solidalia che gestisce il centro di accoglienza dei fulgatori dove la vittima era ospitata da un paio di anni, ha sporto denunce alla magistratura. A 19 anni dice che non si può morire per un appendicite. Per questo motivo ho presentato subito un esposto in procura. Vogliamo che venga fatta chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso. La mattina, nello scorso 26 aprile, il giovane è stato colto da malore. Accusava dolori all'addome e vomitava. Gli operatori del centro di accoglienza hanno contattato il medico dell'egiziano, Francesco Angelo. Io sono in studio alle 15.30, portatelo da me. Nel frattempo, al 19enne veniva somministrata una plasile. Il dolore però non passava. Preoccupati, gli operatori del centro di accoglienza hanno chiamato un'ambulanza. L'egiziano è stato così trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, dove gli è stato attribuito il codice verde. Nell'area di emergenza però c'erano altre persone in attesa e così i sanitari invitavano gli operatori del centro a condurlo nella vicina guardia medica. Il giovane continuava a vomitare e su indicazione del medico veniva riportato al pronto soccorso dove, ancora una volta, gli è stato assegnato il codice verde, diventato poi giallo in seguito alle elementelle e alle proteste degli altri utenti che hanno capito che il giovane accusava qualcosa di grave. Il 19enne ha trascorso la notte nel reparto di osservazione, il giorno successivo la diagnosi, appendicite. L'egiziano doveva essere operato ma siccome in chirurgia non c'era posto, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale di Alcamo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Qualcosa però non è andata per il verso giusto, le complicanze in seguito all'operazione hanno spinto i medici alcamesi a trasferirlo all'ospedale di Trapani, dove è stato ricoverato in rianimazione. Ieri il decesso dell'egiziano. Mancano poco più di tre settimane alle prossime lezioni amministrative per la città di Trapani e quindi spazio all'info elettorale. In questo momento ancora sono in corso per quello che ci risulta, le operazioni di certificazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale, della presentazione dei programmi e la designazione dei cinque assessori, almeno per due degli aspiranti sindaci. Certamente ci risulta che sono in corso le operazioni di consegna del materiale previsto dalla legge per quanto riguarda la quinta lista a sostegno di Maurizio Miceli, candidato al sindaco del centrodestra e questa è la lista di Forza Italia. Sono stati giorni concitati anche di estrema confusione, certamente per l'esplettamento delle formalità di dito da parte di tutti e quattro gli aspiranti sindaco per Trapani. Noi in questa info elettorale ci limitiamo a darvi le informazioni solo per quanto riguarda il capoluogo. Certamente nel corso della giornata sul nostro sito ufficiale troverete tutte le informazioni certificate e ufficializzate dei vari comuni chiamati al voto a fine maggio e stasera nell'edizione sarala del Tg Sud avrete un ampio approfondimento. Intanto limitiamoci a Trapani. Abbiamo dato nei giorni scorsi, ieri certamente, le designazioni assessoriali di Miceli, di Garuccio e nei giorni ancora prima quelle di Tranchida. Iniziamo quindi dalle scelte operate dal candidato sindaco Francesco Brillante, come noto, supportato da quattro liste. Quattro liste che sono state depositate, non ci risultano novità in merito. Brillante ha scelto quali assessori designati nel numero di 5, come previsto dalla norma, Francesca Trapani, che è già consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, poi Giuseppe Lipari, che è già in carica come consigliere comunale a Trapani per quanto riguarda Sud di Chiamanord, il Movimento Politico di Cateno De Luca, poi Valeria Ferranti, educatrice, Angelo Maurizio Anzelmo, che è un imprenditore nato a Erice e infine la commercialista ed esperto contabile, il commercialista ed esperto contabile Francesco Agosta. Il criterio scelto, dice Brillante, è stato quello della valorizzazione di una generazione. Abbiamo cercato e coinvolto tutti insieme di Comune Accordo persone che per indole, personalità ed età rappresentano il migliore presente e il futuro migliore possibile per i trapanesi. Quattro liste a supporto di Brillante. Una sola lista invece a supporto di Anna Garuccio, la lista denominata La Mia Trapani. Gli assessori che ha scelto sono il dottor Giacomo Gabriele, a cui ha già affidato la delega al bilancio a finanze e tributi economato. Poi l'ingegnere Giovanna Maria Galuppo che si occuperà, secondo la Garuccio, di lavori pubblici. Il dottor Tiberio Miceli che ha avuto la delega agli eventi e allo spettacolo. La dottoressa Sabrina Salvo si occuperà di centro storico e pari opportunità e infine il dottore Flavio Priulla che si occuperà di sport, politiche giovanili e politiche del lavoro. Ripeto, una sola lista per la candidata sindaca Anna Garuccio. Andiamo a Miceli, è in corso, ripeto, la presentazione dell'ultima delle sue cinque liste, dovrebbe essere quella di Forza Terra certamente, così si comunica l'ufficio stampa. Miceli come assessori ha designato Giuseppe Bica, ex sindaco di Custonacci, poi Giuseppe Guaiana, attuale presidente del Consiglio Comunale, Bica in quota Fratelli d'Italia, certamente Guaiana invece in quota Amo Trapani, poi l'avvocato Maria Gabriella Orlando in quota Forza Italia, l'avvocato Vincenzo Scontrino, avvocato tributarista in quota Movimento per le Autonomie, quindi MPA e infine Oscar Tiva che è docente di educazione fisica di Trapani in quota lista Miceli sindaco, cinque per Miceli. Finiamo con Tranchida, lo sapete, sono dieci le liste che ha presentato, tutte validate da quello che ci risulta, gli assessori che ha indicato in questa prima fase prevista dalle norme sono Lele Barbara, Giuseppe Virzi, l'attuale vice sindaco Vincenzo Abruscato e poi altri due assessori in carica che sono Rosalia Dalì e infine Andreana Patti. Per Trapani si conclude così quindi la macchina che precede la campagna elettorale vera e propria da questo momento è scontro quasi all'ultimo voto, non all'ultimo sangue per quanto riguarda questi quattro aspiranti sindaco. Vi ripeto, nel corso della giornata nel sito certamente troverete tutto il resto delle informazioni sugli altri comuni chiamati al voto in provincia di Trapani. Chiudiamo però l'informazione elettorale con questo servizio che riguarda il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che come sapete è ricandidato appunto ha partecipato all'incontro che si è trovato stamattina a Palazzo Dalì dal titolo Ripensare il sistema di drenaggio della città di Trapani a seguito dei cambiamenti climatici. Nel corso di questo servizio è stato presentato lo studio di infattibilità per prevenire altri allagamenti in città. Ascoltiamo Tranchida. Scoppiato quello che è accaduto il 26 settembre del 22 ci siamo subito dati da fare e scopriamo che dal 58 ad oggi purtroppo e me in 70 anni una soluzione vera non si era trovata. Oggi viene il technical, ci dice che la soluzione ha un sapore antico, quello di ripristinare l'utilizzo, la funzione del canale scalabrino e dunque portare immediatamente le acque di monte, di pioggia, alluvianali subito a mare dietro Piazza Leilio. Ha un sapore antico, questa è la soluzione, oggi abbiamo coinvolto tutti gli enti, nei prossimi giorni chiederemo il prefetto inserirà un tavolo di sovraambito. Vogliamo accelerare perché vogliamo chiedere finanziamenti del PNR della Protezione Civile Nazionale. Il canale scalabrino non c'è più, ci sono delle strade, dei palazzi. Come si ripristina questo corso d'acqua? Ci sono tre percorsi che si possono fare. Uno è accanto al sottopasso, ecco perché io spesso e volentieri dico che il sottopasso non servirà solo a unire la città ma diventerà una specie favorevole per noi di cavallo di Troia perché ci consentirà di fare un collegamento che bypassa anche via Virgilio. L'altro un po' più a monte della chiesa, un po' sotto il passaggio di livello e l'altro ancora più a monte sfruttando anche la strada della Zesse. Queste tre direttrici, tre quattro direttrici ci consentirebbero di smaltire tutte le acque piovane da Erice a Casa Santa, Trapani Nuove, immediatamente a mare. Non devono andare in via Tunisi a lagarmi la città, devono andare immediatamente a mare come era una volta. Noi ci fermiamo adesso un momento, ci rivediamo qui tra poco. Piazzetta del tramonto si allarga, iniziati questa mattina i lavori di demolizione del vecchio edificio tra la via Carolina ed il porto peschereccio di Trapani. Appello per la chiesa di Sant'Antonio, presa di posizione del sindaco di Favignana Forgione nel corso di una conferenza dedicata alla storica chiesa dell'isola. Appuntamento con la storia, la Enbo Lerice questa sera alle 19.30 giocherà gara 1 per i playoff Scudetto. Arpie impegnate contro Brixen su Tiro. ...del vecchio edificio tra il porto peschereccio e la via Carolina. L'area ribattezzata Piazzetta del tramonto sarà riqualificata nell'ambito del progetto del waterfront. Vediamo il servizio. La notizia è che intanto Piazzetta del tramonto si allarga di un bel po'. Ci sarà più spazio dove ammirare l'incanto dei tramonti di Trapani. Stamattina sono infatti iniziati i lavori del vecchio edificio che tra l'altro era pericolante, tra il porto peschereccio e la via Carolina. I lavori sono stati disposti dall'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale. Il futuro di quest'area, che sarà riqualificata, si inserisce nell'ambito del progetto del waterfront predisposto dall'autorità portuale, il cui ITER è in corso al Ministero dell'Ambiente. Non appena ci saranno le autorizzazioni si passerà alla progettazione esecutiva e realizzazione attraverso fondi europei e risorse del PNRR. Tutto work in progress, quindi. Intanto il piazzale sarà sistemato ampliando così le prospettive da Piazzetta del tramonto, liberando un bel po' di spazio. Nell'attesa che prenda corpo il progetto del waterfront, dove per questo tratto del litorale si parla di un percorso passeggiata pedonale che parte dal Villino Nasi. Impegno condiviso per salvare a Favignana la chiesa di Sant'Antonio. A riguardo il sindaco da Lega di Francesco Forgione ha lanciato un appello. Sentiamo. Un impegno condiviso tra Comune e Curia per salvare l'antica chiesa di Sant'Antonio a Favignana, costruita nell'Ottocento per volere dei Florio. E questa è la proposta lanciata dallo sindaco Forgione nel corso del convegno, organizzato da Italia Nostra in collaborazione con la Diocesi di Trapani e con il patrocinio del Comune, che si è tenuto nei giorni scorsi nell'isola. La chiesa di Sant'Antonio è un luogo fondamentale dell'identità, della storia di quest'isola, anche nella costruzione dell'itinerario culturale, nel rapporto con il mare, con il lavoro, con l'industria e con i tonnaroti, ha detto Forgione, sottolineando come si stia lavorando per valorizzare nel complesso di Florio tutto ciò che hanno rappresentato e rappresentano per Favignana. La chiesa è di proprietà della Curia. Raccogliendo l'appello della sezione di Trapani di Italia Nostra e del suo presidente Totto Pellegrino, che ringrazio, il primo cittadino ha ringraziato per l'iniziativa l'esecutivo Egadino e si è detto disponibile a collaborare per provare a individuare insieme nuovi finanziamenti che consentano di recuperare integralmente l'edificio e restituirlo alla comunità. Dalla Diocesi, proprietaria della chiesa di Sant'Antonio, il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha dato piena disponibilità, soffermandosi a contempo sugli aspetti che rimandano alla proprietà morale che è di tutti, per cui ogni favignanese dovrebbe dire che questa chiesa gli appartiene. Disponibilità è stata espressa anche dall'onorevole Dario Safina, deputato regionale presente al convegno, che ha anticipato l'intenzione di verificare con l'assessorato la possibilità di individuare le risorse necessarie per recuperare la chiesa di Sant'Antonio, che ha un valore antropologico fondamentale, visto che racconta la storia dei Florio, della mattanza dei Tonni, di un'isola che ricordava i suoi defunti mettendoli nei visi degli angeli delle pitture parietali. Per il parlamentare non si può disperdere questo pezzo di storia, anzi va valorizzato all'interno di un percorso che deve ricordare cosa hanno rappresentato i Florio assieme ai loro tonnaroti. Maria Rita Signorini, restauratrice e già Presidente nazionale di Italia Nostra, intervenendo a conclusione dei lavori, ha invitato a fare presto al fine di non pregiudicare ulteriormente le già precarie condizioni della chiesa. Per la programmazione su Telesud, altra serata stasera in compagnia dello sport. Alle 20.30 trasmetteremo l'ultima giornata di campionato di Serie A1 femminile con la partita di handball tra Cellini-Padova e le nostre arpie ricine. Alle 23 invece andrà in onda la partita di basket Riviera-Banca-Rimini e 2B-Control-Trapani, valevole per la fase ad orologio. Ed ora per noi un attimo di pausa, torniamo tra pochissimo con lo sport. Prima di parlare di sport, una rettifica questa sera per quanto riguarda gli appuntamenti non andrà in onda lo sport, ma una nuova puntata di Res Pubblica. Ospiti del nostro direttore saranno gli assessori designati Vincenzo Scontrino per Miceli Sindaco, Francesca Trapani per Brillante Sindaco e Vincenzo Abruscato per Tranchida Sindaco. Ed ora parliamo di sport alle 19.30, gara 1 semifinale Scudetto tra Brixen, Suttirol e Handball Erice. Vediamo. Ci siamo. Il lavoro di una stagione per arrivare proprio qui, a gara 1 dei playoff Scudetto. Lo ripeto, chissà qualcuno pensasse di aver sentito male. Semifinale playoff Scudetto. Landball Erice ha costruito una stagione perfetta con un obiettivo che più sembrava una follia. Qualcuno ha cominciato a crederci dopo la vittoria della Coppa Italia. Ora si attende col fiato sospeso. Tre squadre con le arpie. Brixen, Suttirol, Pontinia e Salerno. Squadre che dalla loro hanno l'esperienza, è vero, ma che magari non hanno più quella sana inconscienza che insieme all'entusiasmo e alla fame di impresa delle ricine possono fare la differenza. Un click scattato proprio in un'altra semifinale, quella della Coppa Italia. Il click della consapevolezza. Arrivati a questo punto della stagione non si può che puntare al massimo risultato, ha dichiarato la capitana Lorena Benincasa. Molti ci danno per favorite, anche in virtù della vittoria di Coppa Italia di qualche mese fa. Noi invece preferiamo pensare partita dopo partita perché la palla è rotonda e tutto può accadere. In gare come questa sarà tutta un'altra storia e faranno la differenza ai dettagli. Ci aspettiamo una bella atmosfera, con una bella cornice di pubblico e tutto questo ci motiva ancora di più. La motivazione, appunto, quella non manca e noi non diremo brave ragazze per essere arrivate fino a qui e neanche l'importante è partecipare. Sarebbe profondamente ingiusto per una squadra, uno staff e una società che ha lavorato duro e che ha tutte le carte in regola per credere in questo sogno. Una cosa è certa però, al di là del risultato e di un modo preventivo un enorme grazie va ad ogni arpia, in campo e fuori dal campo, per aver reso possibile tutto questo. Con questa consapevolezza ora è tutto in discesa, ora si dà il massimo sul serio. Tifiamo per voi ragazze. Accademia Trapani. A spara finale tra le vincitrici dei playoff dei gironi A e B di promozione si giocherà domenica 7 maggio alle 16 allo stadio Marco Tomaselli di Caltanisetta in Palio c'è un posto per il campionato di eccellenza nella prossima stagione. Storico traguardo del Marsala Fuzzal che domenica scorsa a Prato ha vinto la Coppa Italia serie C1 di calcio a 5. Sconfitto il Città di Cagliari per 9 a 3. Vediamo. Campioni d'Italia in serie C1 di calcio a 5. Il Marsala Fuzzal ha centrato la vittoria in Coppa Italia e il conseguente salto di categoria dopo aver battuto in finale il Città di Cagliari per 9 a 3 a Prato. Uno storico successo per la compagine Lili Betana che rilancia lo sport a Marsala in special modo il settore calcistico in crisi ormai da qualche anno. Il Fuzzal si era qualificato alla finale imponendosi 7 a 6 calci di rigore contro il Mama San Marzano. L'incontro ai regolamentari si era chiuso sullo 3 a 3 dopo che la società del presidente Paolo Tumbarello aveva rimontato un iniziale 0-3. Una meravigliosa pagina di sport e straordinaria accoglienza dei campioni all'arrivo all'aeroporto Vincenzo Florio. La squadra infatti ha potuto contare sullo supporto di circa 50 tifosi in terra toscana. Si è conclusa a Mangia Sano Italia la carmesse sull'eccellenza della gastronomia siciliana. Il presidente di Telesud Massimo Marino fa il punto sull'evento appena chiusosi ad erice. Questo è il nostro approfondimento e anche l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Sono sempre stato molto restio all'autocelebrazione. È stato un successo, grande partecipazione di pubblico eccetera. Frasi che dovrebbero essere dette da terzi e non certamente da chi organizza o gestisce quell'attività o appuntamento di sorta. Ciò nonostante non possiamo che essere estremamente soddisfatti di questa prima edizione di Mangia Sano Italia. Un progetto che l'assessorato regionale all'agricoltura ha fortemente voluto e che ha seguito passo passo sin dalla sua genesi cinque mesi fa. Finito l'evento è doveroso fare i ringraziamenti per chi ha permesso tutto ciò partendo dall'amministrazione comunale di erice e in particolar modo al primo cittadino Daniela Toscano e all'assessore alla cultura e al turismo Rossella Cosentino che ci sono state sempre vicine con preziosi suggerimenti. Poi i padroni di casa delle due principali location nelle quali il progetto si è realizzato. Ad iniziare dall'Ignazio e Vincenzo Florio che con la sua dirigente Pina Mandina è stata cuore e sostanza di questa prima edizione mettendo a sistema la rete degli istituti alberghieri d'Italia e disponendo per i laboratori mattutini le proprie fantastiche brigade cuciniere egregiamente capitanate dai professori Mazzeo e Adamo. L'altra è stata la fondazione Ettore Majorana per i workshop pomeridiani che grazie alla sensibilità di Lorenzo Zichichi ha dato dimostrazione ancora una volta ove ce ne fosse stato bisogno della consapevolezza che un prestigioso luogo di scienza può e deve anche essere centro aggregatore della cultura di un territorio a 360 gradi anche di quella turistica gastronomica di dove opera e forma quotidianamente in ben altre discipline. E ancora le strade del vino Erice Doc che tramite il presidente Salvino Craparotta ha messo a disposizione l'enoteca comunale come vetrina del paniere delle eccellenze individuato dal maestro Peppe Giuffré, un amico che risponde sempre presente con rara generosità quando c'è da valorizzare la nostra bellezza enogastronomica fuori dall'isola. Infine quel vulcano che risponde al nome di Dina Macaddino che con la sua uvia ha voluto dare un valore aggiunto al tutto coordinando un carinissimo Expo Village a Piazza Loggia che ha attratto migliaia di visitatori verso le primizie siciliane in questi giorni. Tutti assieme abbiamo buttato le basi per qualcosa che può avere un futuro importante e a questo lavoreremo con una edizione nel 2024 nella quale l'associazione premio Saturno Sicilia che produce promette di fare le cose ancora più in grande. Per il momento grazie a chi ha collaborato sin dall'inizio alla realizzazione del progetto Simona Licata e l'inastabile. Ai protagonisti sui fornelli il maestro cuscusiero Pino Maggiore e a quello panettiere Peppe Martinez. Ai grandissimi chef Giuseppe Costa, Fabio Potenzano, Mirko Catanzaro e al poliedrico Endiluotto. Alla sapienza intellettuale di Italo Cucci, Giacomo Pilati ed Anna Martano. Grazie per le belle parole di Federico Quaranta, un amico vero della nostra terra. Ai preziosi interventi tecnici di Massimo Piacentino, Giovanna Tranchida, Filippo Salerno e Rosalia Dalì. Grazie ai dirigenti scolastici Vincenza Mione, Filippo De Vincenzi e Vito Pecoraro, presidente di Renaria Sicilia. E a chi ha moderato gli appuntamenti, Vittore Abenante. Da Mangiasano Italia, semplicemente grazie a tutti. Il presidente Massimo Marino.